Ok, adesso siamo giunti definitivamente alla fine della serata, è arrivato il momento di scoprire i vincitori della terza edizione. Allora la giuria sta calcolando i totali, sicuramente, stanno impegnati, vedi, si passano i fogli. Abbiamo la segretaria. Allora, abbiamo la segretaria che stanno, vedi. Allora intanto per cortesia vorrei... Facciamo un applauso a Ilenia, scusate. Sta facendo i calcoli da ragioniera questa sera. La calcolatrice elettronica, sappiamo. Allora, intanto vorrei qui sul palco un esponente di tutte le band che hanno suonato questa sera, che voglio consegnarvi un piccolo omaggio. Intanto ve le ricordo. Allora, certo che puoi salire da qua, zia. Allora, voglio un forte applauso per ogni band. I DNA, i Cinque Sensi, i Feedback. I malamenti. Li abbiamo appena sentiti, quelli di Anarres. I South Zone Saxophone Quartet. Ed i grandissimi Legittimo Brigantaggio. Ok, stanno arrivando. Allora, vorrei... Anche Ilenia se arriva. Eccole, arriva Ilenia e Daniela quest'anno. È un po' tutta il femminile. È un po' tutta la famiglia te. È un po' tutta la segretaria. Ti do anche questo, ti do. Ok? Allora. Vediamo un po' se ci siamo tutti. Vado a dare un piccolo ricordo alla prima band che ha aperto la serata. Non so se sono ancora saliti sul palco. Vediamo, eccoli qua. Allora, Il South Zone Saxophone Quartet. Vieni che c'è il fotografo che ti scatta un ricordo. Proseguiamo con i DNA. Eccoli qua. Allora, i Cinque Sensi. I feedback. Allora, per un ordine di uscita, quindi. Il legittimo brigantaggio. Grande Gaetano. Ti fai il calendario, eh. Se rimani un po' di più ti fai 20.000 scatti. I malamente. Eccoli qua. Quelli di Anarres. Eccola. Vieni. Vedi, è tutto a rosa quest'anno. Tutto al femminile. È giusto. E poi vedo che scappa. Volevo regalare questo ricordo. Io so visto, l'ho visto. A Gabriele De Giudici. Grazie mille. Grazie a te. Grazie per tutto quello che hai fatto. A chi ti augura? A ti. Allora, la giuria sta calcolando. Sempre facendo questi conti. Ogni anno è così. Allora. È Paolo Otto. Allora, perché non ti fai... Questo te lo tengo io per il momento. Intervistiamo i ragazzi. Cominciamo da giù. Vediamo un pochettino di cosa ne pensano di questa edizione. Allora, io voglio due parole, due parole dette dal nostro caro amico del legittimo brigantaggio, al quale io farei di nuovo un grande applauso. Grazie. Un applauso a tutta la bravura e la fantasia. Prego, dici qualcosa. Qualcosa? Qualcosa. Poi? No, vabbè, come dicevo prima, comunque la partecipazione c'è ed è meraviglioso, anche e soprattutto per il ricordo di Locantonio, che insomma il concorso diventi sempre più grande nei prossimi anni. Quindi facendo in modo di fare pubblicità all'esterno della provincia, anche della regione, appunto per avere sempre più gruppi provenienti da tutta Italia. Ok. Ne vale la pena. Ne vale la pena. Ne vale la pena. Grazie ancora al legittimo brigantaggio. Allora passiamo avanti. Eccoli qui, la band vincitrice dell'anno scorso di Slessia, portami via. Isolzone Saxophone Quartet. Prego. Ci dica ciò che pensa. Penso che anche quest'anno la serata è riuscita benissimo. Sono sicuro che oramai il premio Locantonio di Castra è diventato un classico della provincia di Latina e mi unisco a ciò che ha detto, non mi ricordo il nome del legittimo brigantaggio, Gaetano, che dovrebbe diventare una cosa anche a livello regionale. Quindi facciamo sempre più pubblicità perché ne vale veramente la pena per tutti. Bene, un applauso anche per i Soulzone Saxophone Quartet. Bene. Abbiamo i feedback. Allora innanzitutto ragazzi complimenti, siete stati davvero una sorpresa per noi. E non so, fateci qualche commento sulla serata, come è stata per voi. Siamo tutti quanti contenti perché penso che le canzoni siano piaciute. Poi il riscontro del pubblico è quello che a noi interessa maggiormente e soprattutto che l'esibizione sia riuscita. Per cui siamo soddisfatti e contenti soprattutto di aver partecipato a questo festival che porta parecchia gente, quindi siamo contenti. Bene, bene. Ancora un applauso per i feedback. Ecco, complimenti, complimenti ancora. Allora arriviamo al gruppo dell'amico mio Sallevateco. Allora, allora dai, senza che ti dico niente parla tu. Niente, io volevo ringraziare tutti quanti voi, ma soprattutto ringraziamento a Gabriele e ad Antonio. Antonio che ogni anno comunque, nelle ultime settimane, corre a destra e a sinistra per organizzare tutto quanto. Quindi se c'è questo è anche grazie a lui. E volevo chiudere con una frase di Luca Antonio, in qualche canzone che aveva scritto. Dice, musica, c'è chi tra i sussuri nel vento lo chiama amore, ne faccia gran scorta chi parte per i sogni. Questa frase penso che possa racchiudere tutto il festival del premio Luca Antonio Di Castro. Grazie. Ancora un applauso per i Cinque Sensi. Andiamo avanti con il DNA. Il DNA è la prima volta che si sono esibiti, hanno fatto una bella esibizione. Tanto dai, dici qualcosa su questa serata. E niente, siamo felicissimi di essere stati qui questa sera. Per chi volesse seguirci abbiamo una pagina su Facebook, c'è la DNA Official Band Page. E niente. Grazie. Antonio dice che stai fa politica. Ed eccoli qui quelli che sento urlare un pochino di più, sarà per la storia o per non so che cosa. I malamente! Allora, Gioella dice perché siamo beglie. Allora, chi parla? Chi parla? Chi parla? Grazie. Vabbè. Io vorrei ringraziare tutti, veramente tutti, perché questo è il nostro secondo anno qui di partecipazione al concorso. E è veramente un grandissimo, grandissimo onore per noi. Niente, ci divertiamo un sacco e speriamo... Speriamo di avervi divertito, insomma, abbastanza. Grazie, grazie. Avete divertito molto, tutti quanti avete divertito. Facciamo un grande applauso per tutte le band di questa sera. Allora, un ringraziamento particolare lo facciamo ai fonici, ai ragazzi che ci hanno servito, ci hanno, diciamo, procurato questo bel service, tutto il gioco di luce e tutto ciò che avete visto questa sera. Un applauso ai fonici. Ma fortissimo, a Tolmina, alla DC Concerti di Fondi, che oggi dalle tre stavano sotto il sole e si sono cotti come le patate, Poretti, per realizzare questo palco. Abbronzatura, abbronzatura. Andrea mi ha detto che ci sono stati una ottantina di contatti, una ottantina di visitatori sul sito del premio per vedere lo streaming, quindi calcolando che c'erano 80 computer collegati, c'erano minimo 80 spettatori. Quindi, secondo noi, è un grande risultato. È un grande risultato, sì. Ancora non finiscono. Guarda, è una ragioniera che ragiona troppo, secondo me. Quanto manca, Paolo? In diretta, così. Abbiamo fatto. Allora, abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Tanto un ringraziamento particolare, credo. Dobbiamo farlo a tutti voi che siete qui questa sera a vedere questo bellissimo evento, quindi un applauso a voi. Ecchio. Buonasera a tutti. Allora, dobbiamo fare un applauso al premio Luca Antonio Di Castro perché dal primo anno abbiamo visto i ragazzi crescere musicalmente. e di questo è una bella cosa. Quindi facciamo un applauso ai ragazzi che si sono esibiti. A livello di voce e anche a livello di suono. Non c'era più l'impaccio del primo anno, almeno di quelli che si sono riesibiti nel corso di questi anni. C'è stata sempre l'evoluzione, no? Io spero che il prossimo anno questa evoluzione porti ancora qualcosa di buono. Allora, cominciamo con il premio per la migliore presenza scenica. Arrivano. Il premio per la migliore presenza scenica va a quelli di Anarres. Eccola qua. Ok, continuiamo con la migliore esecuzione. Il premio per la migliore esecuzione va ai feedback. Allora, passiamo al premio per il miglior brano inedito. Questo premio è stato offerto dalla famiglia Gasbarone Gino Cesare. Il premio per il migliore brano inedito va ai Cinque Sensi. Allora, il premio della critica. Il premio della critica è un premio che va fuori dalla giuria, cioè non è stato calcolato dalla giuria, è stato valutato e a gusto, a piacimento, diciamo dalla famiglia, dagli organizzatori. Il premio della critica va ai DNA. Ok, arriviamo al premio per il miglior bassista. Prima ne ho salutato uno, però c'è anche il ragazzo che ha vinto il miglior premio della prima edizione, che è Augusto Mateccia, che stava giù e lo voglio salutare. Facciamo un grande applauso. Non per niente. È il mio bassista. Vince il premio per il miglior bassista. Il bassista dei... Quelli di Anarres. Che se viene lui a ritirarlo, questo è meglio, così fa la... Ah, sei proprio... Facciamo un applauso particolare a questa ragazza. Faccio io. Complimenti, oddio. Che ti chiami, scusa? Laura. Laura. Facciamo un grandissimo applauso a Laura, dai. È perché c'aveva i capelli corti, quindi tu ti chiedi che ero un maschio. Ecco, guarda. Ok. E arriviamo al primo premio. Se riusciamo a creare un po' di atmosfera con luce audio, dolmi, sei sempre il più grande. Allora, ricordiamo che... No, no, questo va proprio così, perché... È stato proprio progettato così. Non lo faccio caderno. Ricordiamo che... Voglio ricordare che questo premio è stato realizzato da Fabio Pennacchia e come vedete, secondo me, è un'opera d'arte e lo voglio ringraziare con un fortissimo applauso. Allora, vince la terza edizione del premio Luca Antonio Di Castro quelli di Anarres! Grazie a voi. Laura, Laura ha sbancato stasera. Ci vuole una macchina a parte per i portatutti premi. Allora, prima di salutarvi voglio ringraziare Gabriele De Giudici che mi ha seguito in questa avventura di quest'anno. Grazie a te. Ilenia Grega ed Andrea Rufo. Giorgio Bono, tutta la giuria, capitanata da Paolo Grega, Walter Fantozzi, Elia Stefanelli, Maurizio Pietricola e Giovanni Di Castro. Grazie di cuore. Potrevo ringraziare Giacomo Bernardini, Gianluca Leoni, Benedetto Cantagalli e soprattutto un applauso fortissimo a Zee Francisco che a ogni festa sta sempre a loro. Sta a tutti e non lo ringrazia mai nessuno. È sempre lì. Un forte applauso a Maurizio Ieras che è il realizzatore dei videoclip, quello che abbiamo visto all'inizio e quello finale. Alle forze dell'ordine e al service che oggi, come ho detto, ha lavorato sotto il sole cosciente perché è stata una delle giornate più calde dell'estate. A tutti i musicisti che hanno partecipato all'edizione. Grazie mille, siete state bravissimi. Per ultimi, ma non ultimi, grazie a voi, meraviglioso pubblico, che avete riempito la piazza anche quest'anno. Grazie mille. Se ho dimenticato qualcuno, scusatemi, erano troppi i nomi. Vi ringraziamo, vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento all'anno prossimo e vi salutiamo con un ultimo regalo. Buonanotte a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.